La 442 è infrastrutture verdi, miglioramento delle condizioni agricole, ambientali e paesaggistiche di un territorio, siamo negli investimenti non produttivi e sono essenzialmente tre tipi di interventi che andiamo a realizzare, i terrazzi e i ciglioni, le fasce tampone e le siepi e filare e boschetti, quindi sono tipicamente investimenti non produttivi ma che hanno finalità ambientali, paesaggistiche e anche di difesa del territorio. Anche questa misura viene finanziata al 100% della spesa a mese, abbiamo 300 mila euro massimo di importo per i soggetti privati e 700 mila per i soggetti pubblici. Per avviare le attività a seguito dell'istruttore ovviamente bisogna avere i titoli abilitativi, quindi il progetto deve essere immediatamente cantierabile. Tempi realizzazione di circa 485 giorni previsti dal cronoprogramma. Sia per la 441 che per la 442 possono essere sia soggetti privati che soggetti pubblici, quindi anche soggetti che non svolgono un'agricoltura attiva possono accedere proprio per la caratteristica di questa tipologia di intervento che si pone un po' borderline rispetto al PSR in quanto a finalità più territoriali con valenze anche diverse da quelle meramente agricole.